Io non voglio essere risarcita, ma bensì voglio sapere dove si trovano, attualmente in quale banca si trovano queste cellule staminali. Ci sarebbe finita come vittima anche una coppia di Alvignano nel Casertano, in un presunto raggiro relativo alla conservazione di cellule staminali. La coppia aveva versato il dovuto, ma comunque soddisfatta per aver conservato in mani sicure le cellule prelevate dal cordone umbilicale della donna al momento del parto avvenuto nel 2013. Insomma, un atto d'amore per il futuro dei propri figli, qualora ce ne fosse stato bisogno. Il prelievo viene effettuato nell'azienda ospedaliera di Caserta, ma poi la coppia da quel momento in poi si affida ad una società esterna con sede anche in Svizzera. Per conservare le proprie cellule. Da qui inizia il calvario. Siamo ad Alvignano, in provincia di Caserta, nell'alto casertano, dove si trova la famiglia che è stata probabilmente, diciamo ancora probabilmente, truffata per quanto riguarda la vicenda delle staminali. Noi cerchiamo stamattina, cercheremo di andarla a sentire per farci spiegare meglio come stanno le cose. Venite con noi. Siamo con Vittorio Martino, il marito della signora alla quale sono state prelevate le cellule staminali dal cordone umbilicale. Poi è successo qualcosa di importante che lei questa mattina coglierà l'occasione per denunciare. Che cosa è successo esattamente? Verso giugno 2013 abbiamo iniziato a contattare alcune aziende per cercare di conservare questo dono per nostro figlio e queste famose cellule staminali. Abbiamo contattato questa azienda che credevamo che fosse una tra le più serie e niente, alla fine abbiamo fatto tutto l'iter burocratico che c'era da fare, abbiamo recuperato questo cordone umbilicale quando è nato nostro figlio nel dicembre 2013 e è avvenuta la conservazione. Diciamo il parto è venuto presso... Mia moglie ha portorito presso l'ospedale di Caserta. Ovviamente l'azienda ha solo fatto il prelievo, poi i medici sono usciti di scena, non c'entra più nessuno per quanto riguarda l'ospedale. Quindi a quel punto voi vi siete rivolti ad una società esterna. Sì, in effetti noi dietro il pagamento di un ticket che regolarmente abbiamo ricevuto, abbiamo fatto prelevare le cellule dalla dottoressa di turno in quel momento e abbiamo consegnato un kit a una persona inviata dalla dottoressa, dopodiché abbiamo iniziato a fare i pagamenti regolarmente e come abbiamo terminato. Quando avete pagato esattamente? Si può dire questo? Credo che siamo intorno ai 4.500 euro. Quindi, ma diciamo che la cosa importante in questo momento non sono neanche i soldi che sono stati spesi per nostro figlio. In quanto noi vorremmo sapere soprattutto dove sono andate a finire queste cellule di nostro figlio. Ma come nasce il dubbio? Il dubbio è nato un po' di tempo fa, circa tre settimane fa, sentivo parlare vagamente in tv qualche cosa proprio di accenno e riferì a mia moglie di iniziare a telefonare i famosi numeri che noi avevamo. Quegli stessi numeri che normalmente erano pure molto cordiali quando voi chiamavate per fare i versamenti, per avere informazioni. Poi improvvisamente? Poi improvvisamente questi numeri sono stati tutti muti, non rispondevano più, non esistevano più soprattutto. Neanche nelle email che noi avevamo come informazioni per chiedere informazioni e per avere informazioni da loro non si sapeva nulla. Le email tornano indietro, quindi ci siamo un pochettino iniziati a preoccupare seriamente. Ma ripeto, non tanto per i soldi che sono stati spesi, ma per sapere queste cellule di nostro figlio e dove sono andate a finire. La signora Maria Luisa, ecco, come state vivendo questa situazione? E' abbastanza preoccupati perché noi abbiamo fatto questa cosa proprio per un futuro migliore, eventualmente dovesse aver bisogno nostro figlio. Ma anche perché sono, come ci dicevano loro, sono cellule che possono servire fino alla terza generazione, quindi per qualsiasi della famiglia eventualmente ne potrebbero usufruire tranquillamente. Io ho provato più volte lo stesso a contattare l'azienda con delle scuse banali, mandando comunque delle email, però mentre altre volte comunque dopo un paio di giorni mi hanno risposto, questa volta invece non ho avuto nessuna risposta in merito. Io sono preoccupata perché io non voglio essere risarcita, ma bensì voglio sapere dove si trovano, attualmente in quale banca si trovano queste cellule staminali. In realtà vuole le cellule di suo figlio e mi sembra anche logico. Ecco, voi, signor Vittorio, lei ha avuto dei contatti poi con un'istituzione svizzera per quanto riguarda questa vicenda. Che cosa gli hanno risposto? Un po' di giorni fa abbiamo contattato un servizio di verifica sulle aziende che si trovano in Svizzera e questo ufficio ci riferiva che dobbiamo scrivere tramite i legali e subito ci avrebbero risposto. Ma la cosa che a noi ci ha fatto più pensare è quella che noi come abbiamo chiamato, loro ci hanno detto, chiamate per la c***a. E siamo rimasti un po' freddi in effetti perché loro già sapevano e quindi adesso siamo in attesa dei sviluppi e la cosa importante è che ci siamo affidati a un legale perché da soli non ci danno risposte, non ci danno ascolto. Un legale che andremo adesso a sentire. Allora Avvocato che cosa pensate di fare, come vi state muovendo, qual è la vostra linea difensiva? Allora innanzitutto saputo dell'accaduto abbiamo cercato di verificare la veridicità dell'accaduto. Abbiamo iniziato a prendere contatti con delle autorità svizzere che purtroppo ci hanno dato elementi utili per confermare la Mara Notizia. E quindi di conseguenza ci siamo subito attivati per formulare una denuncia, una denuncia a carico e a danno non solo di soggetti esteri ma anche di soggetti italiani. Perché non dobbiamo dimenticare che i primi contatti e i rapporti sono stati intrattenuti con soggetti italiani. E quindi la nostra strategia futura sarà certamente quella di dare battaglia e di riuscire in qualche modo a riavere le cellule staminali. Perché qualunque altra forma di risarcimento non andrebbe ad eguagliare lo scopo che è stato quello del prelievo prima e della conservazione dopo delle cellule staminali. Da Alvignano è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it Grazie a tutti.